Ciao Marcello, sono Patrick da Pisa, saluto tutta la redazione, Delio, le postman ovviamente che mi permette di partecipare al clan. Allora, tralasciando le polemiche su Agnelli che mi hanno veramente stancato, è una cosa superata per me, ci concentriamo sulle partite, io farei un turnover ragionato, tenuto conto che se c'è una squadra che si può battere a Torino e il Barcellona, non ci possiamo permettere di subire ripercussioni di un'eventuale sconfitta in campionato. Vanno messi in cascina i 6 punti con Napoli e Chievo, per cui io consiglierei a Allegri questa pillola bianconera, di utilizzare e impiegare tutti i titolari che può e vincere a Napoli in campionato. Fare un turnover conservativo in Coppa Italia, perché secondo me possiamo benissimo pareggiare in Coppa Italia, e poi vincere col Chievo, in maniera da arrivare al cospetto del Barcellona belli, tranquilli e rilassati, ovviamente con la massima concentrazione sui nostri impegni. Perché laddove non vincessimo col Napoli e magari pareggiassimo col Chievo, una battosta contro il Barcellona potrebbe darci 6 problemi anche in campionato. Quindi questi 6 punti per me sono i più fondamentali della stagione. In Coppa Italia sono quasi convinto che non perderemo, per cui questo è il mio auspicio e forza Juve sempre. Tanti saluti Donnarumma.